buongiorno benvenuti alla resegna stampa di oggi sul sul canale 19 c'è occhio ai giornali il commento alla stampa con come sempre i giornali carlino torino adriatico abbiamo selezionato per voi abbiamo preso le notizie più interessanti a nostro giudizio che tra poco vedremo con il nostro touchscreen prima però andiamo a vedere il santo di oggi oggi è san zaccaria il sole sorto alle 6 e 36 tramonterà le 19 37 minuti che meraviglia questa immagine che arriva dalla spiaggia di gabice davvero straordinaria questa immagine che arriva alle 7 del mattino con un mare come si dice che è una tavola andiamo adesso invece a vedere il tempo il tempo per la giornata di oggi domani dopo domani intanto segnaliamo possibilità di deboli piovaschi in serata nel settore settentrionale vedete sulla zona del carpegna poi domani cielo sereno un poco nuvoloso mentre giovedì avremo soprattutto diciamo in serata delle precipitazioni anche se deboli intermittenti ma solo in montagna poi invece lungo la costa dove potrebbero assumere anche carattere di rovescio quindi attenzione giovedì sera poi il tempo sarà ancora instabile soprattutto per la giornata di domenica a causa di una possibile discese di aree più fredda dall'est europeo iniziamo allora con il giornale andiamo a vedere subito la prima pagina del resto del carlino il parco prende forma questo è la zona dell'ex amga dove sono stati già messi a dimora 300 alberi siamo a pesaro nuove piante pronte per il laghetto vedete uno dei residenti che indica appunto questo parco nell'area ex amga ancora contaminata da idrocarburi invece l'apertura è per altri eventi intossicati per il tonno il carlino ne ha parlato ieri il prodotto conteneva istamina è successo in un ristorante al mare a fano le tre ragazze che per prive sono andate al pronto soccorso che poi sono state ricoverate per precauzione nel reparto di cardiologia dicono che paura poi si parla delle bollette bollette salasso uno tsunami conti di attività e negozi che lottano per sopravvivere una carrellata di voci sul giornale da tutta la provincia poi a gabice giallo in hotel un turista nei guai ha toccato un tredicenne è stato denunciato ma è ancora tutto da verificare in cinque anni sottratte 150 mila euro alla sua azienda sottrae 150 mila euro alla sua azienda la contabile creativa e poi addio a polidori un'istituzione della musica in città a pesero e sempre da pesero san nicola tutti in fila si annuncia un'edizione super sabato la fiera che prende il via al mare lo sport qui sotto rubata la vittoria ai biancorossi vis scandalo e rabbia negato un rigore pazzesco e poi vl moretti dalla carica possiamo fare male adesso invece il corriere adriatico sarà la fiera dei record a titolo d'apertura torna a san nicola per gli organizzatori si supereranno i numeri pre covid con 150 mila visitatori oltre 500 gli ambulanti per tre giorni di rassegna i primi divieti nella zona del mare a partire da domani la fiera di san nicola è inutile dirlo insomma è la fiera di pesero burano e sant'anna stop ai prelievi a centropagina misura sperimentale assunta ieri dalla regione il dibattito sulla crisi energetica il caso trivelle divide i candidati alle politiche e poi in breve le notizie sul caro bolletta il sunia teme anche adesso gli sfratti perché naturalmente la gente dovrà decidere se non pagare le bollette quindi andare incontro ad eventuali distacchi oppure pagare l'affitto perché tutte e due le cose essendo la coperta corta non si riescono a pagare con tutti questi aumenti in in vista e qualcuno già li ha avuti infermiere di passaggi di passaggio salva uno scuterista ferito l'uomo era andato in arresto cardiaco dopo uno scontro l'incidente è venuto al semaforo di via flaminia allora vediamo le notizie interne malore fatale sulla 14 per cause naturali non si fa l'autopsia la salma alla famiglia stiamo parlando di questo malore fatale determinato da cause naturali così dicono e questo è l'esito degli accertamenti svolti ieri sulla salma di manuele vecchio originario di sesso ferrato e residente a ponte rio di monterado trovato morto alle 4 di notte di domenica sull'autostrada 14 al volante della sua auto ferma ridosso del new jersey sulla carreggiata sud a pochi chilometri dalla casello di fano nel tardo pomeriggio di ieri la salma di questo consulente finanziario che si era trasferito a marotta dove viveva da solo è stata messa a disposizione della famiglia però leggendo l'articolo ecco siccome anche nei giorni scorsi anche ieri abbiamo parlato abbiamo fatto vedere un video non si parla mai a livello nazionale di questi malori che colpiscono centinaia di persone una cosa incredibile sono aumentati tantissimo una cosa mai vista prima questi malori questi cuori che si fermano improvvisamente e insomma per molto meno negli anni scorsi insomma si finiva nei vari telegiornali nazionali quando c'era un malore anche in spiaggia spesso si sentivano ma erano insomma ci sono sempre stati chiaramente i malori ma erano pochi oggi invece sono tantissimi e nessuno ha il coraggio di dire di andare a fondo e tutto è causa naturale il cuore si ferma è chiaro che il cuore si ferma però perché si ferma ecco e in quest'articolo si si anche qui diciamo che le cause naturali ma la domandina fatidica non è stata fatta e la risposta non c'è il cuore si ferma dopo l'incidente in scooter l'uomo è stato salvato da un infiammere di passaggio la donna gli ha praticato un massaggio cardiaco lo schianto al semaforo tra lì via flaminia e kennedy siamo a pesaro e quest'uomo di 50 anni scuterista deve la vita veramente alla prontezza la professionalità di una donna infermiera che passava di lì un angelo custode potrebbe dire nel tardo pomeriggio di ieri in questo scontro che è avvenuto all'incrocio tra lì via flaminia fratti e kennedy quando la donna che passava lì per caso insomma ha visto l'uomo a terra l'ha subito soccorso il cuore si era fermato l'uomo aveva perso conoscenza era in assenza proprio di respiro e di polso un collasso cardiocircolatorio che poteva avere conseguenze nefaste però l'infermiera sapeva cosa fare e aspettando i soccorsi ha fatto ha praticato questo massaggio cardiaco quest'uomo di 50 anni e ovviamente sono stati come si dice in questi casi ma anche nella realtà sono così attimi interminabili attorno a questo scenario convulso complicato dai mezzi incidentati il traffico bloccato insomma a un certo punto ecco questo è un po il il resoconto di quello che è successo poi invece addio a polidori fece suonare tutta la città scomparso a 79 anni il gestore del primo negozio di strumenti musicali il mondo della musica dunque perde uno dei suoi pionieri si è spento 79 anni maurizio polidori storico gestore del primo negozio di strumenti musicali in città in via mazza degli già negli anni 60 poi la notizia invece che altri 20 addirittura 20 così si legge sul giornale sul carlino questa mattina spuntano altri venti un'altra ventina di persone clienti di un ristorante della zona mare di fano che sono stati colpiti da questi sintomi insomma lì per lì per occupanti dopo aver mangiato una tagliata di tonno vedete altri 20 clienti intossicati il ristoratore fortuna che era cotto è successo dopo ferragosto in un locale appunto della zona del mare nessuno è andato in ospedale c'è anche una lettera di scuse da parte del fornitore del tonno che comunque è da quello che si evince insomma un fornitore serio ecco insomma poi chiaramente uno non è che vive dentro il tonno non poteva sapere però ecco questo è successo intanto il carlino racconta anche oggi di queste tre ragazze che per prime insomma che loro si sono andate all'ospedale questa ragazza di 26 anni le altre due di 23 raccontano loro oggi il cuore ci batteva l'impazzata sono studentesse che ci sono sentite male dopo aver mangiato questo pesce a fano ora dobbiamo seguire delle regole precise però insomma è andata bene anche perché raccontano la tempestività degli operatori è stata straordinaria ci hanno fatto subito entrare tutte e tre ci hanno seguite contemporaneamente tutte e tre con gli stessi sintomi e parametri praticamente sballati la pressione bassissima la frequenza cardiaca fino a 160 e valori degli enzimi praticamente alterati e fino alle 5 del mattino nonostante i trattamenti farmacologici siamo state malissimo poi abbiamo iniziato a sentirci meglio ma gli enzimi erano ancora alti e ci hanno trasferite qui in cardiologia dove le condizioni delle ragazze stanno pian piano normalizzandosi ma la botta è stata grossa come si dice e per guarire del tutto ci vorrà comunque del tempo allora coniugi inseguiti e arrestati per furto avevano a seguito la figlia di tre anni blitz della polizia di stato che sorprende la coppia gimarra intenta smontare la marmitta di un'auto una giovane famigliore dell'est europeo arrestata per arrestata per tentato furto un aspetto curioso della vicenda nelle uscite di coppia mamma e papà portavano anche la figlioletta di tre anni adesso la donna è tornata in libertà su disposizione dell'autorità giudiziaria perché possa acudire la bambina in teneretà il papà della creatura è stato invece sottoposto a misura cautelare e l'obbligo di dimora nel comune di residenza che si trova nel nord italia intanto da civita nova arriva la notizia di un terribile schianto tra un'auto e una moto muore sul colpo un papà di 46 anni l'incidente ieri in località a crocette a monte cosero la vittima è un camionista di civita nova marchi inutili per lui i soccorsi l'uomo stava andando a lavorare a monte cassiano una ragazzina fanese trovata invece con un immigrato all'interno dell'ex convitto vittorio colonna c'è stata un'ispezione degli agenti scattano quattro denunce anche contro due adulti una minorenne fanese è stata scoperta all'interno dell'ex convitto vittorio colonna dove stava trascorrendo la notte insieme con il suo ragazzo di pochi anni più grande e proveniente dal nord africa intorno al loro ambiente intorno a loro un ambiente sudicio pieno di rifiuti molto precario sotto il profilo igienico sanitario frequentato negli ultimi tempi da persone che non hanno un tetto sì in effetti ho visto le fotografie ieri c'erano anche una marea di escrementi cioè fatti fatti così un po dappertutto e questa è la notizia che trovate sul Corriere Adriatico di oggi poi carabinieri insultati ed aggrediti siamo a Senigallia nel parapiglia ferito anche un quattordicenne nel caos di sabato sul lungomare alighieri un militare è stato spintonato ed è finito a terra un quattordicenne dunque rimasto ferito in questo parapiglia cadendo dalle scale svenuto ed è stato condotto da un'ambulanza in ospedale finito a terra anche un carabiniere si è subito rialzato sulla vicenda ci sono indagini ma intanto la bagarre iniziata nella piazzetta del residence Milano sul lungomare alighieri di Senigallia è proseguita su instagram per tutta la giornata di domenica ora il problema economico dell'economia sfratti ci prepariamo al peggio con mancati pagamenti di affitti il responsabile del sunia bel fatto l'avvocato gabriele bel fatto dice che teme le ripercussioni sugli inquilini delle bollette salasso quindi in sostanza siccome la coperta è come si dice è corta o si pagano le bollette o si pagano gli affitti perché per pagare tutte e due le cose evidentemente molte famiglie non non i soldi non ce li hanno e anche perché le famiglie giustamente per evitare i distacchi potrebbero lasciare indietro appunto gli affitti quindi dice io non posso non pagare la bolletta del gas perché cosa ci faccio con la casa senza gas o senza luce e quindi la cna chiede per bocca di fausto baldarelli anche un aiuto concreto con la proroga del piano casa questo era il corriere adriatico restando sul corriere la fiera di pesaro la fiera che vuole il record oltre 500 ambulanti per 150 mila visitatori ottimista il presidente della pesaro parcheggi delle noci che parla di numeri pre covid cioè prima della pandemia le tariffe degli espositori ritoccate di 50 euro ma erano ferme praticamente da 12 anni intanto tornando a senigallia c'è il problema per chi abita da quelle parti del t red cosa sono i t red sono le telecamere quelle che ci sono sulle strade che scattano foto se tu superi un certo chilometraggio orario 1200 multe in due mesi queste queste macchinette spietate c'è la class action però un'azione legale diciamo tutti insieme contro appunto queste sanzioni parla qui michele cotadamo che è un ristoratore titolare di una pizzeria e di un ristorante che ha ricevuto si è beccato due verbali da 183 euro e 12 punti della patente volati via decurtati non ci fanno dice lui lavorare più poi invece sempre da questa pagina una notizia di cronaca sulla destra vedete con la fotografia di un incidente sull'arceviese frontale a borgobicchia due giovani sono finiti in ospedale e questo è l'ennesimo incidente nella tarda mattinata di ieri lo scontro è avvenuto poco dopo le 13 dove sono rimasti coinvolti un 31enne di senigallia che appunto viaggiava su questa strada e un ventenne nato nata anzi una donna a senigallia ma residente ad ostra andiamo sulla pagina di fan invece del resto del carlino nuovo look per via battisti i fanesi sanno di cosa sto parlando e quindi riconosceranno sicuramente anche se diventa anche se qui è un po' irriconoscibile perché stiamo parlando di un rendering cioè di una foto al computer che indica come diverrà poi come verrà realizzata appunto questa questo viale battisti che è un po' un viale di anche se vogliamo importante che è molto frequentato durante l'estate è un biglietto da visita importante e sarà così ecco come diventerà nuovo look e più sicurezza un restyling che sarà in linea con le esigenze attuali maggiormente garantiti pedoni e ciclisti presentato il progetto di fattibilità c'è anche una riduzione dei parcheggi se può essere utile come informazione da 38 a 20 con la promessa degli amministratori di mantenerli però liberi free non a pagamento e la rimozione di 12 alberi se l'agronomo darà parere favorevole le piante saranno spostate sempre su viale battisti altrimenti saranno sostituite prevista la messa a dimora di 9 nuovi alberi con un saldo positivo secondo l'amministrazione di 21 piante poi c'è ancora cronaca ecco qua un altro malore un malore poi annega shock in spiaggia a torrette colta da malore annega pochi metri dalla battigia è accaduto domenica pomeriggio in uno stabilimento balneare di torrette la signora di mezza età di fano è stata soccorsa dal bagnino di salvataggio ma per lei non c'è stato niente da fare nonostante i tanti tentativi di rianimazione purtroppo sul posto sono arrivati poi purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare sul posto sono arrivati quelli del 118 i militari dell'ufficio circondariale di fano e nonostante gli sforzi per salvare la vita della signora per lei appunto come dicevo scritto due volte non c'è stato niente da fare quindi questo malore che chiaramente non può essere attribuito al gran caldo perché siamo al 5 6 di settembre e ormai di gran caldo non possiamo parlare ciclista ferita in un incendio dico così perché molti tutti i malori che sono stati registrati in Italia che sono centinaia e centinaia improvvisi al mare sono stati tutti attribuiti al gran caldo ecco ciclista ferita in un incidente tamponamento tutti illesi due incidenti con un ferito che c'è stato ieri pomeriggio intorno alle 15 e 30 e poi c'è il racconto insomma di questi due episodi con tanto di fotografia andiamo invece adesso sulla pagina di Urbino sulla pagina di Urbino le vie della città sono ridotta con la brodo questo è il titolo d'apertura la denuncia di Miriam Borrioni che risiede in strada a San Bartolo tutta la zona dice delle mura è in uno stato preoccupante di degrado e qui ci sono le fotografie sotto invece cambio al vertice Maglione al comando Carabinieri nuova nomina il capitano prende il posto di Puglisi che ora va in Calabria si chiama Crescenzo Maglione ed è come abbiamo anticipato nei giorni scorsi su queste pagine il capitano che ha assunto il comando della compagnia Carabinieri di Urbino giovane classe 1992 Maglione ha già diverse importanti esperienze lavorative di rilievo nel suo curriculum il nuovo capitano va a sostituire come abbiamo detto Puglisi allora adesso invece lo sport con il Fano che dice il club manager Danielli meritava di vincere buona la nostra reazione dopo il loro vantaggio si è giocato quasi solo in una metà campo alla vigilia avrei firmato per questo pareggio la squadra merita un plauso per quanto espresso quell'errore invece arbitrale che ha frenato la vis clamoroso il rigore negato ai biancorossi a nove minuti dalla fine una topica colossale che è costata anche l'espulsione a Sassarini qui in questo caso ovviamente la colpa è dell'arbitro che non ha visto quello che probabilmente tutti gli altri invece hanno notato allora noi ci fermiamo qua questa sera c'è il telegiornale alle 20.30 occhio alla notizia tra l'altro subito dopo ci sarà una comunicazione importante che vi invito a seguire quindi non vi dico cosa adesso vi lascio con la curiosità quindi 20.30 TG poi un approfondimento dove ci saranno ci sarà una notizia credo che possa interessare un po' tutti quanti e che riguarda Fano TV bene grazie per averci seguito vi auguro buona giornata e a stasera grazie a tutti